Con i concerti presso la Torre Antica di Torre Melissa e Piazza Castello a Santa Severina, sabato 24 luglio, ha avuto il via l'ottava edizione del Wine Jazz Festival, una realtà artistico-culturale che negli anni sta assumendo sempre più un punto di riferimento nel panorama della cultura gelsistica nella provincia di Cortone, realtà quasi del tutto sconosciuta in questo stupendo lembo di terra che grazie alla tenacia e alla lungimiranza della società Beethoven-Hackham sta diventando un'opportunità artistica in continua evoluzione. La fusione poi di cultura gastronomica con il vino in prima posizione e l'arte ormai millenaria del jazz, con la presenza non solo di giovani artisti ma di veri veterani di un'arte stupenda, sta divenendo ormai un appuntamento estivo di rilievo in luoghi storici dei quali è disseminata la provincia di Cortone e della Calabria. Nella splendida e storica torre antica di Torre Melissa si è esibito il gruppo Iorio Quartet Jazz, formato da Lorenzo Iorio, la chitarra Alessio Iorio al basso, Andrea Paternostro, Saxalto, Giacinto Maiorca alla batteria, gruppo di giovani artisti provenienti dal Conservatorio San Giacomo Antonio di Cosenza con alle spalle un curriculum artistico di tutto rispetto. Mentre a Piazza Castello di Santa Severina è stato di scena il quintetto Chill Cake Jazz, formato da Marco Greco alla chitarra, Carlo Bilotto al contrabbasso, Francesco Caleggiuri al sax, Carlo Maria Mann al pianoforte e Francesco Borrelli alla batteria. Un gruppo di oramai veterani del panorama jazzistico, malgrado la giovanità, che avevano avuto il piacere di ospitare e ascoltare in altre occasioni. Due realtà artistiche molto belle all'interno delle quali l'irruenza giovanile degli esecutori si fondava ammirabilmente con una formazione accademica ferrea e ben strutturata, facendo evidenziare personalità artistiche che nell'arco degli anni saranno certamente inserite nei cartelloni più prestigiosi dei festival internazionale del panorama jazzistico.